abbraccio con fulvio venanzini puntata numero 35 il podcast improvvisato e polemico di spotify cominciamo subito senza tanti giri di parole anche perché la giornata è un mozzico buon ascolto allora doveva essere un raptus gli era partito nembolo una vena rotta un ictus che strani ictus voleva solo spaventarla no ma non è il patriarcato è semplicemente che questi giovani oggi spirilizzati hanno perso il punto di riferimento nel padre il centro di gravità permanente capito non c'hanno più quel patriarcato di una volta sono plagiati dalle femministe quindi ammazzano no ma non è quello è che lui semplicemente era un caprio spiatorio va a cercare che c'è dietro no ma lui era laurea lui era solo invidioso della laurea ma non lo voleva ammazzare tutte ste cazzate si sono dette in questi giorni e alla fine il buon filippetto turetta è stato interrogato ieri e cosa ha detto giulia doveva essere solo mia per questo l'ho ammazzata punto tanto semplice è classico femminicida è il classico femminicidio anni 50 proprio quello non si scappa proprio quello patriarcale non si scappa poi possiamo raccontarcelo quanto ci pare no perché è brutto ammette no che c'è il patriarcato nel 2023 ma come andiamo noi operiamo al cervello andiamo su marte fanno le peggio cose intelligenza artificiale poi stiamo ancora eh sì quanto pare sì non ci sono non ci sono cazzi l'ha detto lui o più di così e l'ha pure istruito l'avvocato è non è che questo parla a cazzo tant'è che tant'è che ha fatto anche delle dichiarazioni un po strane un po mi sono suonate un po porte fatte nel senso no non so cosa mi ha preso devo capire devo ancora riorganizzare i miei ricordi mi è partito qualcosa mi è scattato qualcosa voglio paio sbagliato ho ucciso prima ha detto ho ucciso la mia fidanzata in germania la polizia tedesca già lì non aveva ancora capito che lei lo aveva lasciato pensate il livello di 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 senso del possesso di queste persone e di egocentrismo mi ha detto sì ho ucciso la mia ex ma appunto non so cosa mi è preso ma voglio pagare voglio pagare il giusto che uno dice ma che cazzo dichiarazione voglio pagare il giusto cioè mi sembra no se vuoi pagare l'infermità mentale non dici voglio pagare il giusto perché sembra proprio una cosa imbeccata dall'avvocato voglio pagare o voglio pagare soppettito ma mi spiace tanto ma mi però voglio pagare il giusto non di più eh non mi fate pagare un anno di più perché poi io devo studiare capito ha chiesto i libri come prima cosa ha chiesto i libri e mette da studiare cioè tu pensa questo quanto cazzo è sociopatico c'è questo ha ammazzato la ragazza 20 coltellate 30 coltellate non lo so è scappato dopo è la buttata in un burrone in una spelonca che cazzo era in mezzo alle rocce buttata per non farla trovare cercando di depistare cercando di scappare poi alla fine viene beccato perché me la fa più perché non è certamente un killer di professione un serial killer molto navigato capito fa tutto tutto questo poi alla fine giustamente ormai deve ammettere le sue colpe è talmente distrutto che vuole subito iniziare a studiare non voglio perdere manco un attimo tempo eh portate a parte gli hanno portato dei libri che io dico boh inizialmente no per fargli passare il tempo gli hanno portato gli hanno portato un giallo da catacristi che va già dico ma perché un giallo ma vabbè e poi la figlia del capitano che è un romanzo di puskin come cazzo si chiama quello sì io non ho letto però lo conosco del nome pure questo amori contesi la figlia del capitano il patriarca ma porca miseria portagli topolino ma portagli geppo portagli qualcosa di più no sempre sta roba cupa amori difficili contesi uomini che si contendono donne ma perché ma perché vabbè comunque a parte questo lui ha chiesto questi libri per non vuole proprio vuole subito iniziare a studiare questo se deve laureare perché tanto sa che probabilmente con qualche attenuante qualche cosa è poi in italia sapete come funziona magari tra dieci anni esce fuori se bello laureato è perfetto essendo un sociopatico ricomincia la solita tranquillamente magari trova pure qualcuna che qualche matta che lo che lo accoglie lo sposa perché voglio dire è successo con quello dell'omicidio di di novi ligure quindi voglio dire e niente la cosa veramente assurda in tutta questa vicenda moi genitori sono andati a trovarlo vabbè prima c'era avevano un po timore non lo so hanno lasciato dichiarazioni sempre più imbarazzanti su babbo era un bambino no ma lui non è che l'ha uccisa con arma con arma lui l'ha uccisa a mani nude allora apposto è un bambino cioè lui non è che ha ucciso il suo angelo lui gli faceva anche biscotti discorsi dice beh questo voraccio ha bisogno di cure psicologiche di un terapeuta non lo parla perché dice solo cazzate ancora questi biscotti ma hanno cambiato pure avvocato però questi biscotti continuano come un bambino non si sa che gli è preso è scoppiato un embolo e lui dice ma sta famiglia evidentemente non ha saputo leggere dei comportamenti un po un po allarmanti di questo ragazzo che diceva beh ma dormiva con l'orzacchiotto che lo teneva in braccio come lo stringeva come se fosse giulia ma non mi sembra tanto normale che uno a 21 anni dorme con l'orzacchiotto lo stringe e dice mi ha lasciato mi voglio ammazzare ma manda al psicologo no ce l'ha dovuto manda a lei ma poi non è bastato e comunque la cosa veramente avvilente disarmante proprio che ti lascia proprio senza più speranza se ce l'avessi mai avuta nell'umanità sono i commenti su twitter della gente disagiata perché che è successo che premete allora in questi casi no quando la donna superata quello che è se va sempre a vedere come era vestita che lavoro faceva se se l'ha cercata che tipo era se va a scandagliare la sua vita privata e insomma diciamo per giustificare in qualche modo quello che gli è successo per dare la colpa a lei no è un classico è un classico quindi si dice che insomma la perfect victim non esiste cioè una vittima non deve essere perfetta una può essere pure una che fa che ne so le orge che che fa la pornattrice la escort quello che ti pare drogata quello che ti pare ma comunque se subisce se subisce un femminicidio uno stupro quello che è è sempre lei la vittima al 100% non si va non si può darle la colpa a lei giustificare minimizzare sulla base del suo comportamento nella sua vita privata no si fa spesso ora nel caso di giulia cerchettin questo non poteva essere fatto perché lei era veramente se esiste la vittima perfetta perché era una ragazza acqua e sapone io non sto sto parlando proprio come ragiona la gente imbecille media acqua e sapone studiosa che si sta proprio per laureare generosa buona semplice perfetta non era appariscente non era era proprio la la vittima perfetta che uno diceva questa mi dispiace tanto e chi l'ha fatto è un pezzo di merda pena di morte proprio infatti tutti erano dalla parte sua non era divisiva assolutamente come negli altri casi no quella ammazzata sì però l'ha provocato sì però lei si è vestita ignuta era mezza ignuta si è fatta stuprare perché pose l'ha cercata i lupi mannari eccetera eccetera qui erano era perfetto lei era proprio la vittima al 100% di lui carnefice 100% proprio lui proprio ce l'aveva tutte le caratteristiche della merda viscida passiva aggressiva manipolatrice ok non potendo attaccare lei sono dovuti attaccare a qualcun altro della famiglia hanno cominciato attaccarsi alla sorella perché non potendo svilire lei non potendo infangare lei dice come cazzo famo ah è voluta fuori la sorella femminista perfetto tombola bingo capito è arrivata questa che vengono già parlato con la maglia col pentacolo che in realtà era una marca ha cominciato a dicoltura lo stupro ha fatto un discorso troppo che non che per una donna panna ragazzetta non va bene ma come tu sei morta la sorella ti metti pure a farla femminista ma come tu devi piangere devi andare in chiesa piangere di lave maria con rosario in mano e zitta al massimo dire mi dispiace uno schifo bisogna cambiare il mondo ok ma 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 senza fare nomi cioè senza schierarti invece lei si è schierata ha fatto nomi e cognomi e questo ha fatto il culo a molta gente a tutti i maschilisti a tutta la destra ovviamente tre quarti della popolazione italiana e mondiale oserei dire e quindi hanno cominciato a buttare merda su di lei e questa è andata avanti una settimana buona ancora va avanti perché questa vuole entrare in politica questa va va chissà quale secondo fine c'ha ma queste già sono sempre in televisione o classico no poi c'è di mezzo un po' di complottismo e ma chissà questa questo simbolo satanico chissà cosa c'è dietro tutto in modo per sia sfocare l'odio sempre su una donna specie se arsa la capoccia due per in qualche modo assolvere un po' filippetto bravo ragazzo biscottaio cioè alla fine gli è partita un lembo le donne oggi fanno non ti aspetti questa se laureava addirittura comunque il sottotesto è sempre quello che comunque c'ha colpa anche lei o la famiglia sua non paghi dopo aver insultato lei è arrivata anche la nonna perché la nonna si dà caso che sia una scrittrice scritta libri è apparsa in televisione intervistata facendo un discorso senza piagni senza senza sfassoletto in testa senza così volto deformato dal dolore addirittura sorriso a vedi questa ride presenta il libro ma come sta presentando il libro parlando di giulia femminismo quello che è manco lo so prima ancora il funerale ma come si permette ma questo ma questo ma questo non è normale hanno cominciato a buttar fango pure sulla nonna e hanno cominciato poi vabbè c'è la frangia estremista dei degli inser e pillati complottare i novax che addirittura hanno cominciato a dire che queste due va a cercare cosa c'è di mezzo hanno usato lui come vabbè il delirio addirittura il siccome c'è un fratello erena ciocchettin c'è un fratello e siccome si somigliano molto quanto pare perché sa come funziona i fratelli si somigliano e solitamente pure la sorella somiglia al padre però vabbè hanno cominciato a dire questi matti matti da tso hanno cominciato a dire che il fratello non esiste ed è la sorella tra cioè che che la sorella non esiste erena ciocchettino non esiste ed è il fratello travestito la donna che era innamorato di su questa teoria del rinante che era innamorato di finippo duretta siccome lui lo rifiutava allora lei ha ucciso cioè lui travestito la donna ha ucciso giulia per fare ricadere la colpa su di lui questo ma manco un thriller coreano dei più malati potrebbe tirare fuori invece la capoccia di questi non conosce i limiti ecco quindi teorie degli lanti poi hanno dovuto tirare fuori il padre sì un pochetto anche il padre la voglio dire se non sembrare tu sempre dalle parti delle donne anche il padre che comunque si è sempre comportato bene senza alzare troppo la testa lui no da dei messaggi più ecumenici più buoni se vogliamo o meno non è una strega perché loro sono streghe erano subito identificate come streghe siamo sempre lì è lui è un anno da pia un post del padre del 2013 tipo dove questo faceva un post boomer sui rapporti sessuali come come le partite tennis quelle cazzate boomer di bucate nel sant'antonio questa un attimo fuori questo questo posto tutto è il padre di giulio cecchettini guardate cosa scrive stare con della serie io lo metto poi pensateci voi che vuoi dico sta cosa che vuoi di che cazzo vuoi di non sanno più che attaccasse per vedere cose questo pensava al sesso dieci anni fa c'è una mentalità forse troppo maschilista e quindi ma l'articolo più delirante che lì veramente abbiamo toccato l'apice dello squallore giornalistico italiano ve lo dico subito affari italiani affari italiani è uscito articolo firmato da giuseppe vatti 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 vanno non conosco dice che pure che un ex deputato e questo ha fatto un articolo che è dal stra denuncia da stra querella e spero che che la famiglia gli tolga pure la casa non la sua pure la casa al gatto curaccio allora l'affinità dei film horror amati da elena cecchettino con la morte di giulia questo già il titolo già capisci il tenore dell'articolo c'è la lo sciagallismo che esprime la tragedia che ha travolto giulia cecchettino è particolarmente affine alla trama dei film horror sui serial killer amati dalla sorella e elena cecchettino un killer dei film tra le sue foto così la sorella di giulia esalta un assassino l'incredibile somigliazza con un film horror capito c'è un misto di complottismo strizzo l'occhio al complottismo misoginia c'è de tutto qui c'è proprio è una cosa io adesso non è che mi metto la legge lo trovate eh una fogna di sito una fogna di articolo che ti ripeto non ha alcun fondamento non ha alcuna logica c'è il famoso pregiudizio su chi guarda film horror quindi chi guarda film horror ha disturbato cioè tre quarti della popolazione mondiale ha disturbato siccome questa prima che gli ammazzassero la sorella vedeva film con i killer allora in qualche modo che cazzo vuoi dire che vuoi dire pensiero magico che vuoi dire che questo ha causato la morte della sorella che vuoi lì che lei ehm come dire a legittimava i serial killer perché guardi se io mi guardo sì i documentari sui killer sono dalla parte del killer ma che sei imbecille non credo questi non sono imbecilli questi sono proprio sciacalli e niente però pur di pur di infangare la famiglia sempre donne soprattutto sono andati a cercare la la bagaga instagram di questa capire vedere che cazzo stiva c'è una popore cioè non c'è nessun rapporto tra quello che fanno i familiari e quello che ha subito la sorella non c'è alcun cazzo di rapporto perché poi ho scritto un tweet su su twitter appunto io lo continuo a chiamarlo twitter vaffanculo lo misgender o come si dice lo lo dead name o un re a cazzo continuo a chiamarlo twitter non lo chiamerò mai x spero almeno perché vaffanculo glielo maschi continuo a chiamarlo twitter scritto un parte tweet su sta cosa uno è diventato virale no qui dicevo appunto che appunto quello che vi ho detto che non potendo getta fango sulla vittima hanno gettato fango su le due donne più vicine anche se sono schierate con la vittima di sciacalli dei social insomma tante condivisioni tanti commenti tante approvazioni ma anche tanti insulti ovviamente come in questi casi arrivano orda di disagiati complottisti bandierati novax terrapiattisti ma non terrapiattisti in modo di dire terrapiattisti veri che sono gli stessi credo una storia deliranti la sorella del fratello la sorella non esiste la nonna satanista tutte queste cose tutti sono gli stessi novax e anche terrapiattisti chi è che può credere la terrapiatta se non sti disagiati mentali e quindi soliti questi poi incel redpillati misogini vari fascistoni tutti tutta sta marmaglia di gentaccia a insultarmi ovviamente no sti cazzi insomma normale a parte che limitavano ovviamente del cook beta cook come parlano loro beta cook oh ma tanto non te la dà ma chi ma chi ma smettila ma tu non ti vergogni sei contro i maschi oppure che cazzo non so morto le fica insomma vari insulti proprio squalidi perché sta gente è disagiata nel cervello e loro proiettano tutte le loro frustrazioni le loro paranoie cioè loro non concepiscono che uno possa vedere la donna come un essere umano come l'uomo capito o come addirittura un essere vivente come che ne so i cani no le foche i panda cioè uno no difende chi è oppresso punto loro non concepiscono sta cosa loro proiettano su di te la loro visione malata per cui la donna è comunque una vagina ambulante loro da misogini quali sono vedono la donna essenzialmente come o macchina da riproduzione o macchina da sesso quindi ti attaccano subito su quello capito tu te la puoi scopare ma loro non accettano sta cosa capito già con questi attacchi dimostrano di essere dei talebani peggio dei morti di figa talebani capito loro sono ossessionati dal sesso da qualsiasi quello te la scopi quello non te la scopi ma se fa così te la scopi se fa così te la scopi io dico ragà fatevi le pippe mamma gà ma le pippe ci salvano il pianeta fatevi le pippe mi smettiamo di stigmatizzare le pippe perché regale pippe sono importanti la gente non figlia tanta gente che non nasce vite le merda risparmiate inquinamento in meno il pianeta si salva pippe 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 oppure non non ve la piace con me pagate andate con un escort e pagate non roppete il cazzo stanno lì a odiare le donne e chiunque si schieri con loro che poi non con le donne ecco le femministe perché tante donne non capiscono un cazzo uguale tante donne non tante però alcuna ma qualcuna ma attaccato certo tante donne sono più stupide e patriarcali dell'uomini cioè se ci riescono vengono cresciute così oppure sono proprio stupide per vari motivi pic-me-girl quello che cazzo le pare quindi in questione di donne contro l'uomo è questione di persone intelligenti civilizzate empatiche contro bestie insomma anche chiamarle bestie contro subumani non lo so perché dicevo questo dicevo questo perché ok mi hanno insultato varie persone qualcuno invece che mi ha fatto delle critiche diciamo circostanziate un po più diciamo pacate cioè uno mi ha detto dice su arda io non è che voglio giustifica lui non è che voglio dare la colpa a loro non è che voglio però effettivamente comunicativamente parlando questa nonna che ride e presenta il libro è indifendibile comunicati comunicativamente io dico che cazzo devi comunicare la nonna ma che cazzo devi comunicare ti guarda che lei è imputata guarda che l'imputato è Filippo la nonna può pure andare a ballare la salsa può andare a fare i pornazi può fare che cazzo gli pare capito cioè qui è assurdo cioè il processo in tre secondi si è spostato sulla nonna capito quanto cazzo c'è quanto cazzo esiste il maschilismo che basta che quella ha fatto una strage cioè ha ammazzato quella in modo più efferato questa ha presentato un libro e se immediatamente la colpa è andata su di lei cioè l'occhio la lente ingradimento è andata su di lei capito tu pensa quanto sei prevenuto verso la donna quanto cazzo sei misogino è lei che deve comunicare bene che cazzo deve comunicare lei può pure andare a fare le orge non ce ne frega un cazzo non cambia il fatto che la vittima è la nipote l'assassino è quello l'ex finanziato e la nonna è semplicemente una che purtroppo ha perso la nipote ma lei può fare che cazzo gli pare col soluto la sorella può fare che cazzo gli pare col soluto non deve rende conto a voi disagiati di merda oggi proprio un podcast diplomatico però veramente non sarebbe più perché siamo arrivati veramente al mondo al contrario di cui parleremo anche dopo purtroppo capito la nonna che deve qui siamo passati da la la vittima che deve essere perché non deve essere perfetta può anche essere imperfetta ma ho detto la nonna deve essere perfetta la nonna della vittima la nonna della vittima non c'entrano una sega la cugina la bisnonna non c'entrano un cazzo non c'è alcuna responsabilità la responsabilità unica c'è là lui che l'ha ammazzata punto tutto il resto sono stronzate sono stronzate e teorie complottare da sciacalli del web guarda io mi ristoro mi rifaccio le orecchie anche il cervello quando vedo i video dell'abbruzzone che parla ore 14 oppure quando fa le conferenze che parla delle tematiche proprio è l'unica veramente lucida tecnica che dice cose esatte giuste puntuali preparata senza sbrodolature senza cose retoriche romantici cagate del cazzo dice come funziona guarda c'è questo il criminale funziona così 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 narcisista così così narcisista covert patriarcato certo c'è il patriarcato c'è il narcismo covert c'è tutti questi fattori e è l'unica che dice alle donne svegliatevi nel senso la frase epica dell'abbruzzone è uccidete la badante che in voi quella è top cioè quella è da incorniciare da scrivere nelle aule scolastiche metafora un po forte per dire insomma smettetela di aderire a questo ruolo di accuditrici del maschio che vi hanno inculcato da piccole no perché è quello che proprio porterà speriamo di no ma rischia di portarvi alla morte quindi l'abbruzzone mi piace un sacco ma io l'ho scoperto adolescente perché io per anni me ne sono sbattuto le palle della cronaca nera non è che la seguivo molto no e quando sta abbruzzone era al top diciamo c'è la top eravano fuori sto fenomeno abbruzzone io anzi ero pure prevenuto perché dico ma questa bionda bella ma questo era un altro personaggio capito ma questa che cazzo senza averla mai sentita poi ho visto l'imitazione di Virginia Raffaele mi sono curiosito sono a vedere dico cioè me la vedevo quasi come una una subretna per giudizio verso una bella donna no poi sono a vedere dico ammazza ma questa c'ha le palle e c'ha le palle vedi è un'espressione maschilista pure questa ma questa spacca il culo pure questa cioè non si riesce a trovare manco un'espressione non maschilista per per esprimere ammirazione verso una che fa una professione di criminologa psicologa per dire è molto preparata è anche divertente ironica è quella che l'unica che può salvare non dico il mondo però insomma forse il genere femminile perché non è non è troppo divisiva perché c'era la c'era la povera brutto di la povera perché murgia che lei lei era preparata bravissima diceva cose giuste però era troppo un po troppo colta parlava un po troppo un po barocco un po no un po troppo intellettuale ecco quindi era poi vabbè era pure più odiata per altri motivi poi c'era pure questo purtroppo c'era pure questo ritaglio un po cattolico per cui era un po troppo legata a certi però certo magari ce ne fossero invece l'abruzzone è proprio cattiva non gliene frega a cazzo lei non si fa mettere i piedi in testa da nessuno dice le cose giuste vere non gliene frega una sega proprio è è una che il maschio definirebbe stronza pure pure la cosa la definiamo stronza però forse l'abruzzone è più pragmatica ecco perché giustamente lei non fa la scrittrice fa la la criminologa e la e la psicologa è più vicina a se vogliamo a a un medico o a un poliziotto che ha che un che ha un intellettuale no fortuna che c'è l'abruzzone perché sennò si sentono solo stronzate in televisione su questo caso e su altri casi però ho scoperto un buon programma su rai 3 che va purtroppo in onda a mezzanotte chissà perché così non guarda nessuno non mi ricordo che giorno lo fanno se mi aspetta oggi è oggi è lunedì forse venerdì venerdì sera metodo giovedì perdì sabato mi ricordo dopo amore criminale che quello già la conoscevo però mi sembra un po si interessante ma un po tre esce nel senso quelle ricostruzioni con l'attore della fiction del merda insomma un po cringe degli aspetti però utile pure quello dopo fanno un programma che si chiama che io ho scoperto l'ho scoperto adesso ma già c'era a quanto pare che si chiama sopravvissute dove proprio parlano delle donne molestate su vari posti di lavoro donne molestate hanno parlato della famoso scandalo dell'agenzia pubblicitaria maschilismo ci sono proprio le donne che parlano testimoni fanno proprio i nomi cioè un programma da tenere sott'occhio perché comunque voglio dire è un piccolo mitù quello no per l'italia che ci sia un programma proprio su sta roba chiamato sopravvissute beh è importante no invece la solita retorica scarpette rosse panchine cazzate poesie invece questo è un programma di informazione che come chi l'ha visto può essere utile poi ho fatto un'altra riflessione sempre riguardo queste tematiche ma anche riguardo il cinema perché effettivamente quando dicono oggi certi film non so se potrebbero più fa in che per esempio un film come caruso pascoschi che è un capolavoro della comicità secondo me francesco nudo di ingegno però veramente quel film ha degli elementi che oggi sono tabù cioè sono troppo estremi sono troppo sono improponibili cioè pure sapete la storia caruso pascoschi tra l'altro la donna di cui lui era ossessionato tra l'alisa bart era l'attrice tra l'isabarth si chiama pure giulia c'è lì c'è stalking c'è questo che se arma che gli avuta la pistola che poi se la punta a sé cioè non è passivo aggressivo non è filippo duretta è la storia di un uomo che de monti in bianco lui c'è sta storia sin da ragazzini con questa donna sposati felicemente certo tutto questa ps questa era la sinossi diciamo del film questa ps ne va senza una spiegazione lui va in crisi perché la differenza che lui non nel film il punto di vista dell'uomo è questo è quello che racconta lui non sa che ha lasciato poi si scoprirà però di basi dice io voglio sapere perché ci si lascia ma lui continua a storchizzarla questa e questo film in qualche modo non dico normalizza però come tutti i film anni 80 90 70 sta roba diventa quasi una cosa divertente no di questo che la che la storchizza che la che la perseguita quando questa c'è un altro uomo tutto un casino un intreccio voglio di oggi quel film se vorrebbe fa boh ma due sosti francesco nudi che fanno sti film primo se vorrebbe fa forse cambiando qualche elemento non lo so perché poi nudi c'è la sti tematiche pure su donne con le conne a un certo punto la è catena cioè è talmente surreale che tu non ti non ci fai caso però sono cose agghiaccianti capito quindi è un cinema che forse è invecchiato un po peggio rispetto ad altri sui tipo troisi eccetera lì c'era proprio un aspetto violento tossico però diciamo coperto da da un surrealismo quasi che lo rendeva divertente accettabile nudici a dei momenti folli sopra le righe proprio da comicità quasi da cartone animato da slapstick no quindi però effettivamente oggi fa un film su uno che storchizza una e tu empatizzi con lui non è più un film comico cioè oggi diventa un film drammatico diventa tante commedi che noi ridiamo oggi in realtà oggi li vedremo come film come film drammatici come thriller discorso un po po complesso forse ma la cosa più inquietante che ho visto sti giorni storia che già conoscevo documentario netflix chiamato bad surgeon mamma mia il documentario su macchiarini ovvero il famoso come si chiama il nome paolo macchiarini io già ne avevo letto ho visto pure un mezzo documentario forse un podcast non lo so e paolo macchiarini questo chirurgo truffatore ma una storia assurda c'era raga questo va visto perché siamo oltre è una storia che mischia le truffe romantiche il true crime c'è di tutto il thriller l'horror veramente cioè questa storia vera di questo che per anni ha truffato la gente costa tecnica di di sostituzione di trachei no con trachei artificiali di plastica inventata lui che deve essere rivoluzionaria truffato la gente ha truffato l'ospedale ha truffato ha ammazzato sette otto persone no spacciandosi per grande genio luminare in più adescava donna adescava donne seduceva donne anche donne importanti tra cui una giornalista che gli serviva per parargli il culo quindi c'era due tre famiglie proprio è il numero uno in senso negativo dei truffatori dei dei narcisisti no questo io veramente non 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 mi capacito come questo possa aver lavorato così per anni era il nuovo genio della chirurgia che si era inventato ste trachei di plastica che non erano altro che pezzi di plastica lui sosteneva che ste trachei di plastica potevano salvare le vite una tecnica chirurgica rivoluzionaria per cui una volta messe ste trachei nel paziente poi quelle cellule staminali le cellule staminali entravano nelle ste trachei di plastica insomma il corpo le avrebbe assorbite le avrebbe accettate tutto insomma tornava nella norma nella norma che era una cosa che boh io dico ci riesco un cazzo dico forse forse va bene ma non sono io a dove di ok facciamola questo c'era gli ospedali cliniche private cliniche lavorava in svezia ovviamente d'origine italiane e poi lavorava in sve c'era lui svizzera in realtà di origine però lavorato in italia poi lavorava in svezia insomma aveva abbindolato un sacco di gente che credeva in lui in realtà ste trachei di plastica erano una sola non funzionavano manco per il cazzo erano tubi di elastico messi dentro il paziente che questo poi moriva tra etroci sofferenze sputando pezzi della sua stessa gola ha fatto sto trapianto a otto pazienti disperati gente insomma che non c'era più alternative quindi giustamente dicevo proviamo proviamo questo si spacciava il salvatore di cui desti otto che hanno fatto il trapianto sette sono morti male uno si è salvato per per culo perché l'hanno tolta e l'hanno curata ma c'è una strage questo è una strage perché poi si è scoperto che questo ha truffato tutti noi ha mai non aveva mai sperimentato questa tecnica sugli animali prima si sperimentano che per me è una cosa orrenda però funziona così no questa la sperimentazione la faceva sui cristiani sulle persone queste poi morivano male solo che giustamente l'aveva plagiate diceva no ma lui mi ha aiutato quantomeno mi darò la speranza tutti lo portavano sul palmo di mano anche insomma la politica tutti lo usannavano perché questo aveva fatto lavaggio del cervello aveva fatto come dire love bombing a tutti no col suo carisma e quindi a certo punto però gli suoi collaboratori non aveva cominciato a sospettare la gente moriva gli facevano causa finché questo è stato denunciato ma la cosa assurda in tutto ciò che è già tutto assurdo che questo qui è ancora libero se è preso tipo due anni e sta tipo svezia dove cazzo sta sta a piede libero in alcuni paesi può ancora operare tu pensa che cazzo del sistema giudiziario che ci abbiamo non sono riusciti a dimostrare che questo è un cazzo de mengele de 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 psicopatico perché uno che fa una roba generale che lo fa solo per il suo ego manco per i soldi sì per i soldi per il suo ego è proprio psicopatico e ma lui se lo vedi sì un bell'uomo con la moto affascinato è normale non spacciandosi per genio de de della chirurgia c'è tutto un altro carisma no e quindi ci sono cascate in tanti come cazzo è possibile che nessuno ha sospettato e quindi questo potrebbe ancora operare cioè mi sembra assurdo che questo non sia in galera pelle all'ergastolo questo poi c'era due tre famiglie no con una giornalista americana ci si era messo pensa la mente la mente perversa perché questa giustamente senza giornalista lui l'aveva plagiata la fatta innamorare che con tutte le possibili sciccherie la portava in vacanza nei posti più lussuosi regali questa proprio innamorata di questo perché grazie al cazzo dell'attacone la principessa come fanno tutti questi qua truffatori narcisisti no quando questa ha sgamato lui continuava a negare questa è andata in spagna dove lui diceva che sarebbero andati a vivere gli ha detto che che lui era il chirurgo di obama del papa tutte cazzate no e questa non era una una sempliciotta era una giornalista però era talmente abbindolata da questo e detto che la portava l'avrebbe portata a sposarla a Roma sposati da papa francesco tutte cazzate questa è andata in spagna ha sgamato che lui viveva con un'altra famiglia e lei gli serviva solo per parlare il culo in quanto giornalista cioè ha pensato a tutto capito ma inizialmente quando lei iniziava sospettare l'ha messo alle strette lui ha detto la frase che tutti si cazzo i truffatori dicono romantici eccetera dice no no guarda tanti nemici perché sono prima diceva che sono tanti nemici perché sono invidiosi di me poi gli ha detto no guarda ma mai scoperto in realtà non sono chirurgo lavoro per la cia sono tipo un killer della cia una della cia c'era e lei a quel punto però ormai ha già mangiato la foglia ma lui ci ha provato fino all'ultimo e lui quasi voleva essere sgamato perché se non ti metti con la giornalista perché forse oltre oltre il fatto che gli avrebbe poco aperto no mediaticamente essendo dalla parte sua diciamo la sua credibilità ma c'era pure più gusto con la giornalista a abbindolarla perché lei comunque c'ha delle doti investigative no vabbè è una serie però troppo assurda per essere vera questi sono i medici di merda da da schifare da ma questo ripeto questo dovrebbe stare l'ergastolo però vabbè invece scopro che dei medici comuni gente che si sbatte gente che aiuta salva vite fa il suo lavoro molto banalmente oggi pure questo assurdo devono fare dei corsi di autodifesa cioè i medici oggi hanno aperto dei corsi di autodifesa per i medici tu dimmi se il il cambiamento climatico non è un'opportunità imperdibile perché veramente non è possibile qualcosa è andato storto nell'evoluzione umana nell'evoluzione cerebrale della gente cioè dopo vabbè a parte i posti no caldi diciamo i posti più criminali piani di criminalità tipo napoli dove ci sono questi che impazziscono meno non medico quello è sempre successo no ma dopo l'ondata novax c'è stata veramente un'esplosione di odio verso verso il personale medico verso la scienza e tutto il resto tant'è che secondo me è quello problema quello proprio che ha esacerbato il problema che adesso ho visto a monza corsi di autodifesa per i medici c'è una dottoressa dei sessant'anni della corso del gq dipende dal disagiato mentale che gli mena gente menata ma io te do l'ergastolo ma che stiamo a scherzare tu attacchi un medico ma che cazzo dici primo dieci anni di galera perché tu non è che stava a meno a 1 penalite che ci vuoi sempre un barlume de de motivo della giornata a a meno a 1 che te sta aiuta che testa cura che sta fa quello che può fare per curate e tu e tu gli rompi il cazzo tutto poi pure prima un medico uno che ha studiato per 30 anni e 20 anni poi pure privarci di quello perché sei un matto questo perché sei un disagiato perché pensi che quello sia schiavo dei poteri forti che ti voglia fare qualcosa ma io te lo ha dieci anni che l'era ma io te strometto assolutamente da dalle cure mediche cioè tu sei fuori dal sistema sanitario non me ne frega un cazzo non te ne meriti non me ne frega un cazzo cioè non è non è non è concepibile e questa è una notizia veramente surreale ma c'è tutto l'handicotto quanto è paradossale che uno che col camice che ha studiato le provette le cose la chimica la biologia sta là il bisturi gli tocca mettersi a fa botte cioè gli tocca imparare difendosi non è possibile non è è un assurdo è un assurdo è un assurdo quello lì per curare la gente non deve menare la gente o fasse menare abbiamo sbagliato qualcosa riaprire dei manicomi fate qualcosa non lo so non lo so ma non è possibile io mi ribello a questa cosa cioè non possiamo dargliela vinta a questi ma parliamo di musica ma parliamo di spotify in generale no siamo su spotify del resto è uscito il rap e queste classifiche no dettate dall'algoritmo per ogni utente la roba che lui ha più sentito durante l'ultimo anno non so quanti mesi hanno calcolato da che periodo a che periodo insomma spotify ti dice guarda il tuo artista preferito quest'anno è stato questo bla 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 primo posto questo secondo posto quest'altro i podcast che vi ho ascoltato sono stati questi insomma un servizio chiaramente fatto per tenete incollato a spotify per sentite più parte di una grande famiglia sti cazzi si sa come funziona insomma però una cosa pure utile no e ma innanzitutto ringrazio chi ha ascoltato i 44 più 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 fedeli che hanno ascoltato questo podcast anzi saluto anche roberta vecchia amica che una delle più affezionate e insomma io ho visto tutta la musica che mi hanno segnalato dico sì mancavano delle cose dico non lo so però mi sembra una cosa positiva no eppure lì ho visto ah no che palle spotify che mi dice l'algoritmo che mi dice cosa ho ascoltato perché gente sempre di paranoia ci spigliano perché poi io non voglio sentirmi controllato io voglio essere libero ma sei libero a meno che non sei un decelebrato che ci vuole a scoprire cose nuove semmai spotify sarà una bella una bella un bello strumento no spotify come altre piattaforme l'unico inculato a spotify è per gli artisti che non vengono pagati ma per noi che lo usiamo gratis o con pochi euro è un bel servizio l'algoritmo a me piace l'algoritmo c'è l'algoritmo che mi mi dà quello che mi piace mi suggerisce le cose che mi piacciono ma 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 magari fossero tutti come l'algoritmo l'algoritmo è una brava persona una bella persona non mi delude mai poi posso sono sempre in tempo ad sentire la musica folcloristica guatemalteca capito la musica tradizionale boliviana non me ne frega cazzo però discovery weekly è una bella cosa scopri cose nuove in base al tuo gusto ma il tuo gusto viene anche un po ampliato cioè come cazzo ma no ma una volta una volta era meglio perché una volta c'era il vinile cd sto cazzo era meglio no io mi ricordo quanto era bello il mondo prima spotify io quando ero piccolo sognavo spotify cioè per me era l'utopia avere un database che tu spegni un bottone scegli l'artista che vuoi e lo ascolti ripeto l'unica inculata è che gli artisti vengono pagati ma per noi utenti è un sogno cioè tu c'hai tutto là e ma vuoi mettere il giro dischi che frigge ma sti cazzi del giro dischi che frigge ma ma fate una frittura di pesce non roppe il cazzo e ma vuoi mettere il suono sì ok ma a parte che il suono spotify mi sembra buono ma c'è tutta la musica a portata di mano quando io ero figlio per comprare cd mi ricordo quanto costavano i cd regà cioè era una merda a meno che non eri ricco per comprare cd dovevi prostituirte per strada comprare lo compravamo in due prima costavano tipo 20.000 lì 30.000 40.000 lire poi sono arrivato l'euro 20 euro 20 e passa euro e da lì la discografia è entrata in crisi i cd che già li masterizzavano non li comprai più nessuno perché mi devo svenare per averci una discografia io che so povero per essere al pari tuo che sei ricco io devo andare in miniera cioè io non posso stare al pari tuo almeno spotify è democratico no perché chiunque può averci una cultura musicale prima non era così prima io a parte lato economico ma poi per reperire il cd a parte dovevi fare registrare la cassetta registrare la radio sì era bello perché ogni cosa sembrava chissà che è una grande scoperta ogni cd che compravi l'hai comprato col sudore della fronte te lo ascoltavi fino all'ultimo secondo no conoscevi ogni suono a memoria oggi certamente troppa roba dispersivo bla 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 problemi da da occidente ricco una volta dovevi fatti registrare la cassetta dovevo andare a roma più al treno spenne 20 euro quello che era 10 euro e andare nel negozio strano negozio underground coi cd di importazione per comprare un bootleg de merda de radiot pagarlo 20 euro torna qua oggi ce l'ho sui spotify su su youtube gratis 8 milioni di bootleg e rompete pure il cazzo boomer del cazzo ma io soltanto bene cioè è un guadagno prima era una merda la collezione cd io sognavo di essere libero di sentire quello che mi pareva no che bello quando dovevi spendere la paghetta per comprare cd poi magari faceva pure schifo capito cioè la cosa che io mi ricordo è che se andavano i negozi quando c'erano ancora i negozi di musica usciva che ne so il nuovo disco degli ariam o parte lì era una garanzia però un altro disco tutta una villa c'erano le cuffie oggi sembra pre storia tu metti le cuffie e potevi sentire un sample una clip come si dice un minuto di musica se ti piaceva ogni traccia potete sentire che ne so 20 secondi era bello io andavo là nelle cose cd a roda a sentirmi la musica che non potevo permettere ma bello magari potessi comprare questo magari potessi comprare quest'altro capito pensa come stavamo messi oggi tu puoi comprare tutto puoi sentire tutto gratis e non capite un cazzo uguale perché poi vai a sentire la classifica di spotify italiana è una merda sfere basta prima in classifica tutti quell'altri irama c'è di tutto cioè la monnezza però vabbè ma questo è un altro discorso questo è un problema culturale italiano però ecco se uno c'è un po di interesse un po di gusto la cultura musicale se la fa non è che prima c'era il cd e allora era meglio il passaparola era una merda oggi è meglio dammi retta se fare musicista non è meglio tutti quei cazzo di cd dentro la macchina che si impolverano oggi attacco un cazzo di cavo allo stereo della macchina con 15 euro mensili di di connessione del telefono no c'ho internet infinito praticamente posso sentire tutto spotify tutta la musica che voglio cioè se ce l'avessi avuto a sta roba a 18 anni ma io mentre guidavo e iaculavo cioè io godevo ma io non era concepibile oggi lo diamo per scontato e ce la mettiamo pure fra l'altro è uscito il nuovo album dei rolly stones che ancora non ho sentito ma ho sentito il singolo che si chiama non mi ricordo adesso sono in preparato vedi non c'ho la cosa pronto per legge e non mi non mi ricordo però c'è lo suo singolo che traina il nuovo album dei rolly stones che sembra proprio poi ho letto pure sentire una recensione sul podcast di rolly stone la rivista dove ne parlano bene di sto album sembra che abbiano ritrovato l'ispirazione a 82 anni c'è sto singolo dove c'è stranato come cartina al basso era beh è una bomba è un pezzo rock che potrebbe essere dell'ottanta del 78 del 92 è veramente un bel pezzo rock non ho sentito l'altro l'altro il resto dell'album lo ascolterò ma questo ragazzi tu mi dici questa se tu mi avessi letto 30 anni fa questa è una benda di ottantenni dico no è possibile c'è ma mancano in capo c'è a tutti bel riff voce fresca attitudine vabbè sono gli stones però se ci pensi assurdo questi c'hanno 80 anni 80 anni e non solo dal vivo spaccano ma pure sul disco e paul mccartini al basso che ce l'ha pure lui 80 81 quindi largo ai vecchi ripeto largo ai vecchi vorrebbe essere un magari un album che ritorna insomma ai livelli dei bridges to babylon l'ultimo album veramente bello dei rolly stones 97 anybody's in my baby c'è si sono sciolti i kiss un'altra notizia per i rockettari io non ho mai ascoltati molto i kiss i rolly stones li ho visti dal vivo per la prima unica volta perché dico no li devo vedere faccio un muto però li devo vedere che cazzo era 2015 sto passando un po d'anni 2017 mega mi ricordo circo massimo biglietto pagato 100 euro ma per il mio feticismo rock dovevo vederli che sono un po meccarti non ho visto eh tutti i big io dovevo vederli quindi ho visto i rolly stones mi ricordo che sei ore su un mezzo metro quadrato perché non potevo perdere quel posto dove grazie al copri cavo riuscivo a sollevarmi un po e vedere un po di più comunque era bello lontano eh quindi io sono tre ore a aspettare su quel cazzo di coso senza manco andare al bagno più tre ore di concerto quindi sei ore lì fermo da solo anche perché non ho trovo nessuno che venisse a vedere con me i rolly stones a 100 euro quindi c'era mi ricordo john mayer che aprì bravo insomma grande chitarrista poi hanno fatto pure in pezzi insieme quindi invece tipo che ne so un'ora e mezza no che dico un'ora john mayer forse meno tre quarti non lo so e poi due ore rotte i rolly stones c'ho un bel ricordo eh anche se non hanno fatto ehm paint in black però dici sti cazzi però cazzo vuol vedere i rolly stones spendo 100 euro paint in black me la devi fare no non me l'hanno fatta hanno fatto eh satisfaction e tutte le altre hit vabbè un piccolo ricordo da rock boomer ma torniamo in italia e passiamo a sanremo perché eh amadeus ieri ha annunciato il cast del nuovo sanremo del 2024 ci siamo eh che culo pezza po e leggiamo commentiamo questa lista di artisti in gara i big fiorella mannoia che mamma mia nome nome ormai vabbè geolier che non so che cazzo è d'argentamico ma eh che a mezzo rapper d'argentamico che cazzo fa fa qualche reality non lo so dal nome non mi piace emma vabbè vogliamo salvare emma e salviamo emma via non mi piace però quantomeno la cantante mezzo sanremese pop pop quasi pop rock no fredde palma non so che cazzo è angelina mango è la figlia di mango ora io manco sono grandi fan sono un grande fan di mango e purtroppo scomparso prematuramente sono passato pure con la macchina al lago negro volevo andare visitare però potevo due del lago negro basilicata e la fia però da quello che ho sentito la canzone era una merda era sembrava elodie fatta male quindi boh la sad non so che cazzo è ah dovrebbe essere un mezzo gruppo perché c'è sempre la quota trasgressiva panchetta panchettona lgbtq a sanremo no qualcuno che si spoglia che pomicia che caga sul palco la sad dovrebbe essere loro poi c'è dio dato bravissimo cantante insomma cantatore vocalmente virtuoso bravo però non mi fa proprio impazzire mi spacca un po le palle di la verità c'è un radio edismo di quello un po all'italiana un po palloso il tre non so chi sia ring and neck pure loro grandi voci però ultimamente canzoni un po de merda san giovanni non mi piace san giovanni qual è addio quella che porta sbiascicata non non mi dice alfa non so chi sia il volo per carità il volo mettiamoli su un volo verso la scandinavia do cazzo mi pare verso l'antartide alessandra moroso assolutamente no gazelle mamma per carità per me no orrendo negramaro bravi ma mi fanno schifo le canzoni irama mi fa cagare rose villan non so ma dal nome mi fa pensare a una roba tipo rosa chemical potrebbe essere poi questo la quota tipo chile lauro mezzo truccato non lo so ma mood ma mood interessante realtà c'è anche la voce un po po nasale un po bruttina un po che c'è sempre lato di un incorporato però vabbè l'ordana bertè vabbè ormai pare pare richard benson the colors dopo quella merdata che hanno fatto di non che prima mi piacessero ma dopo questa non è ibiza per me quello che si via big mama non so chi sia gali rapper che io non ascolto però chi ascolta dice che non è male annalisa non annalisa salviamola via pop normale mister m fa cagare mister m era quello tipo popiaco i bambini dio mio che cosa cringe quest'anno chi si porterà vecchi e bambini disabili chi si porterà non so mini manini non so che cazzo sono i minimi dei guzzanti e poi ricchi e poveri veramente ricchi e poveri non no no non ci siamo ricchi e poveri non sono mai stati né un gruppo di una volta bravo né un gruppo moderno proprio non 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 mi capacito chi possono piacere ricchi e poveri ma tanto quello che ci interessa di serremo ormai non è la musica non è la musica la musica è un pretesto è un contorno è un sottofondo al massimo come in generale oggi nella nostra cultura la musica non è mai veramente protagonista quello che ci interessa di serremo è il siparietto il trash il gossip la schermaglia il litigio la baruffa quest'anno che ci sarà ci sarà qualcuno che se spoglia che indigna che piaccarci i fiori che litiga che se sente male che da cavallo pazzo in poi ci sarò sempre questo aspetto a serremo no gente che si vuole suicidare chissà che cosa tireranno fuori per stupicci poi faremo i meme non io però la gente farà i meme per tre mesi da dov'è buco no da lì è partito proprio il filone il filone dei meme di serremo ma comunque pure prima è quello che ci interessa poi ci saranno un po di retorica immagino su sul femminismo su sul femminicidio vabbè fammo pure questo però detto da insomma amadeus che era uno non mi sembra particolarmente femminista uno che dice che diceva una donna che sa stare al suo posto no faceva discorsi del cazzo da da pippo baudo patriarca 2.0 vabbè io tanto non credo che lo vedrò visto cioè a meno che non c'è un ospite internazionale particolarmente interessanti questa roba che cazzo la guarda fa gli altri anni uno su cinque due su tre su dieci che mi piacevano che mi interessavano c'erano quest'anno manco quello cioè quest'anno il massimo che io posso salvare qui è è ringa e neck ci rendiamo conto o diodato diodato ringa e neck e boh fiorella mannoia che canta sempre uguale rompe il cazzo capito che cazzo guarda fa ormai per piarlo per culo su facebook pensa che vita che famo ma chiudiamo come sempre no come sempre cioè ci vuole anche questo chiudiamo con una notizia politica vannacci il generale vannacci vi ricordate l'abbiamo nominato all'inizio puntata mondo al contrario col suo libro complottaro fascio complottaro controverso no in cui esprimeva posizioni che strano eh omofobe razziste eccetera eccetera vannacci notizia nominato capo di stato maggiore delle forze terrestri capito c'è nominato a capo degli eserciti italiani il generale ero sicuro il militare ribadisce di non aver violato il codice a posto quindi tutta questa grande rottura di coglioni ah perché oggi c'è la dittatura del politicamente corretto pensiero unico cancel culture la fava vannacci ma come ha fatto un libro che è praticamente era il men camp momenti e è stato nominato è stato promosso capito qui non solo non c'è la cancel culture ma se tu scrivi ste robe diciamo spargi odio verso minoranze ti promuovono a capo che non mi stupiscono a capo delle forze armate delle forze terrestri capito io non è che me stupisco perché voglio dire oh l'avessero messo appena a Sanremo c'era da stupisco no perché gioco come Sanremo inclusività cose varie ma ma l'esercito è gente fondamentalmente che 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 bombarda che che spara cioè tutti i maschi super tossici maschi maci e virili no che ci stupimo che promuovono uno che dice sta roba è normale cioè voglio dire non c'è da stupire ma poi colpo di scena ulteriore generale vannacci sotto inchiesta per il libro va in licenza appena sotto il nuovo incarico cioè capito l'hanno assunto proprio a partire l'inchiesta per questo libro interna e lui è nato in licenza ho ricevuto la notifica dopo l'uscita della notizia della stampa in ogni caso avevo rappresentato giorni prima l'intenzione di prendere questo periodo di tempo per me questo ha fatto un libro ha avvenuto un sacco di copie si è fatto i sordi nient'altro famoso è stato promuovato in licenza ma chi ci sta a me chiedere lui capito questo il mondo è di questi poi c'è il governo meloniano non è che c'è un governo di sinistra ma questi comandano non è non è vero che c'è la dittatura è politicamente corretta poi in italia assolutamente no assolutamente no fai carriera non esiste nessuna dittatura nessun politically correct nessuna cancer culture anzi più chi dai giù contro i neri contro i gay contro le lesbiche e più arrivi al top over the top e siamo arrivati alla fine di questa puntata come ogni settimana sarà tosta ma ce l'abbiamo fatta polemiche notizie surreali notizie trash e io vi ringrazio per l'attenzione un saluto vi invito a seguire fulvio veranzini abbraccio con fulvio veranzini su spotify o dove vi pare vi do appuntamento a martedì prossimo sempre con nuove polemiche nuove storie personali e di attualità grazie arrivederci a presto